Eccoci a Zanica, sede di partenza di una nuova classica del ciclismo italiano, la Zanica Montepora. Prima di addentrarci nella descrizione di questa gara, andiamo a sentire le parole di chi questa competizione la organizza e la sponsorizza. Bergamo Montepora, siamo a casa della UC Bergamasca, siamo con Gianluigi Stanga, il presidente di questa società storica che ha più di cent'anni, pensate più vecchia dell'Atalanta. Una tradizione che si rinnova con una manifestazione dal sapore unico perché è una gara per Elite Under 23 che assegnerà anche il titolo di campione regionale lombardo e quello di provinciale bergamasco. Stanga, è un appuntamento imperdibile quest'anno, grande novità con una categoria nuova rispetto agli altri anni? Sì, dopo un paio di anni con la categoria Juniors, quest'anno per festeggiare i 120 anni di nascita dell'Unione ciclistica Bergamasca, abbiamo deciso di passare di categoria e organizzare la gara per dilettanti di Elite. Devo dire che c'è una grandissima partecipazione in quanto è forse una delle uniche gare oggi sul territorio nazionale e questo ci fa molto piacere. Non solo una manifestazione importante dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista di promozione del territorio, di promozione degli sponsor a fianco. A chi deve dire grazie, Luci Bergamasca, per la realizzazione di questa gara, oltre che a voi stessi che fate sempre le cose fatte con grande cura e con grande passione? Ma sai, gli amici da ringraziare sarebbero tanti, però credo sia doveroso ricordare il gruppo Radici e il consorzio del Montepora che da tre anni ospita l'arrivo di questa manifestazione, oltre alla tabba da dove partiamo e poi i vari Santini, Agnelli, Automa eccetera per arrivare anche a tutti quelli e soprattutto i volontari, i ciclomotori dell'Unione Ciclistica Bergamasca che ci danno una grossa mano. Se mi permette faccio anche una domanda di tipo sportivo perché negli anni scorsi, ricordiamo, lei è stato team manager di squadre importantissime, ha avuto campioni di tutti i tipi. Due parole a livello tecnico su come è questa corsa e cosa si aspetta di vedere. Ma allora non è un percorso particolarmente difficile se vogliamo essere sinceri, però dopo un primo tratto in pianura e un trasferimento verso la Val Borlezza, poi c'è la possibilità per chi ha le gambe buone di fare la corsa e quindi sicuramente sarà un arrivo o solitario o ristretto ad un gruppetto. È un percorso, come ho detto, non particolarmente difficile, anche la distanza non è delle più impegnative, sono circa 140 chilometri. D'altronde, tenuto conto che sarà una giornata molto calda, tenuto conto che la partenza verrà data a mezzogiorno, credo che sia in linea con quello che può essere una gara fatta al giorno d'oggi. Siamo con Riccardo Ferrari, amministratore delegato di Tab Batteries, un'azienda meravigliosa che fa delle cose importanti nel mondo del mercato, ma oggi investe di promotore di un'iniziativa sportiva a dir poco meravigliosa, la Zannica Montepora. Volevo chiederle quali sono, innanzitutto, le sensazioni che si hanno alla vigilia di una corsa come questa e il perché un'azienda come la vostra decide di investire in uno sport come quello del ciclismo. Grazie, parto da perché di investire nel ciclismo, soprattutto la cosa che ci accomuna è la passione per il ciclismo, per questo sport, avendolo praticato già da giovane, quindi oggi vogliamo ringraziare qualcuno che ci ha aiutato quando eravamo giovani. Oggi per noi è una giornata emozionante, infatti sono coinvolti tutti i miei collaboratori in azienda in questa iniziativa e speriamo che vada tutto bene. Siamo sicuri che andrà tutto bene, credo che nulla come il ciclismo possa servire anche a promuovere il territorio perché il ciclismo si muove in tutti i luoghi ma soprattutto promuove la sostenibilità e in un certo senso un'azienda come la vostra è molto legata a queste tematiche che ora sono molto attuali. Sicuramente sì, la bicicletta è uno di quelli sport ecosostenibili, anche noi come azienda comunque facciamo un'economia circolare a 360 gradi, i nostri prodotti sono tutti riciclabili al 100% ed ecco anche perché abbiamo scelto la bicicletta che è comunque uno sport a contatto con la natura e con l'ambiente. È un messaggio importantissimo soprattutto in questi periodi ma voglio un po' uscire da questa cosa un po' istituzionale e qual è il ricordo maggiore di quando si correva in bici, qual è la sensazione più bella e qual è la cosa che dà più passione su questa cosa qui? Allora il ricordo maggiore non essendo stato un grande campione è la fatica che si faceva e quindi noi siamo abituati, siamo uomini di fatica e quindi anche nel lavoro portiamo avanti questa cosa qua della fatica e sacrificio. Fatica e sacrificio sono due parole chiave assolutamente sì per raggiungere grandi traguardi e sicuramente organizzare una gara come questa, la Zannica Montepora, terzo Gran Premio Radici Group per Elite e Under 23 è un qualcosa di davvero molto impegnativo ma anche gratificante. In precedenza abbiamo visto nelle immagini anche Rossella Di Leo, una delle anime organizzative di questa competizione competizione che vede al Via 175 corridori per un totale di 29 squadre, c'è anche la selezione nazionale ucraina, c'è praticamente il meglio del ciclismo italiano, tanti corridori, tanti volti che ci auguriamo in futuro possano diventare davvero dei campioni e se per caso non diventassero campioni beh ci piacerebbe che quantomeno rimanessero nell'ambiente del ciclismo così come ha raccontato uno degli sponsor il signor appunto Ferrari che non andava forte in bicicletta ma oggi organizza una gara di questo fascino, di questo grandissimo fascino. Perché grande fascino? Perché le caratteristiche del percorso sono quelle di una grande corsa. Sono 137 chilometri con un percorso diciamo tutto sommato piameggiante nei primi 100 chilometri ma negli ultimi 30-37 le cose sono più impegnative. C'è un circuito di 4 giri iniziale che si svolge nei comuni di Zanica, Orniane, Colonio Alserio, Spirano e Comun Nuovo e che è da ripetere quattro volte per 14,3 chilometri. Quindi un bel tratto in linea che attraversa tutta la Val Cavallina e una volta giunti al paese di Sovere si gira a sinistra, si va verso Clusone, poi Castione della Presolana e poi davvero lì la strada è tutta che sale, salita del Montepora. E intanto il gruppo è partito e siamo davvero molto curiosi di capire come questi atleti interpreteranno la corsa perché chi magari non si sente molto sicuro in salita sicuramente tenterà di anticipare o quantomeno di forzare l'andatura. Qualcuno infatti prova ad evadere ma il gruppo davvero non lascia scampo, lo vediamo da queste immagini. benché siano i primi chilometri di gara, notiamo che il gruppo va pressoché in fila indiana, è davvero gruppo allungatissimo. Subito alta andatura, nonostante la partenza sia stata data alle ore 12 in punto. Mezzogiorno di fuoco, mezzogiorno di fuoco per questi atleti che provano a ritagliarsi quello spicchio di gloria in questa giornata davvero molto molto intrigante. Giornata molto intrigante anche perché in questa competizione si assegneranno ben quattro maglie. ci saranno i titoli, allora vengono assegnati i titoli di miglior, di campione lombardo della categoria Elite e Under 23 e poi campione bergamasco, quindi un provinciale sempre distinto tra categoria Elite e Under 23. Quindi davvero tanti motivi di interesse per questa competizione che qui vediamo nelle sue fasi iniziali con un gruppo che rimane forse un po' attardato, proprio questo a riprova dell'altissima velocità che si fa proprio nei primi chilometri. Quindi davvero ogni atleta, ogni atleta davvero, bisogna elogiare ogni atleta e ogni squadra. Ricordiamo le squadre che sono qui presenti alla Zanica Montepora. Innanzitutto il Team Colpac Ballan, una squadra che non ha bisogno di presentazioni che lo scorso anno ha compiuto l'impresa sportiva di saper vincere che cosa? Un campionato del mondo e con questo si è detto tutto. Poi c'è il Velo Racing Palazzago, la Valle Seriana Cenne, il Team Mazzola, la Gallina Ecotec Lucchini, l'ABS Carrera, la Carnovali Rime, la Named, la Zappi Racing Team, la Nazionale Ucraina, Veloclub Mendrisio, Overall Trecolli, la Land Service Gran Monferrato, Aria Cycling, Ciclistica Rostese, Zalf, Euromobile Desiree Fior, Sissio Team, Pedale Scaligero, Solme Olmo, General Stole SGB, Onec Team, Beltrami, Polisportiva Tripetetolo, Mastro Marco Sensi FC Nibali, la D'Amico, la Work Service Group, Trentino Cycling Team, la Speeder Cycling Team e la Garlaschese. Ogni squadra secondo noi merita una menzione speciale perché davvero l'essere presenti è un qualcosa di importante. Nel frattempo, nelle fasi iniziali di gara, il gruppo è sostanzialmente compatto. Sì, abbiamo assistito a qualche tentativo di allungo, qualche scatto, ma di fatto non abbiamo visto nulla davvero di concreto e sostanzioso, anzi, piuttosto abbiamo visto qualcosa sulla coda del gruppo perché l'andatura appunto è molto elevata, lo vedete bene in questa inquadratura. Pensate, sin dall'inizio si cerca di tenere un'alta media oraria. Allora, andiamo a vedere con le immagini quello che accade. Qui vediamo dei corridori che purtroppo rimangono attardati. Lo vedete in questa inquadratura, si vede benissimo, vedete là in fondo. È la dura legge del ciclismo, però davvero complimenti a questi ragazzi che interpretano la corsa in questa maniera, partendo in maniera molto forte, molto decisa. E questo davvero rende onore perché la combattività è una caratteristica che sicuramente chi fa ciclismo deve per forza avere. Se non sei combattivo, se non vuoi fare la corsa dura, difficilmente poi magari riesci a fare la differenza. Nel frattempo siamo nella cosiddetta nella bassa bergamasca. Grandi zone industriali miste a questi paesini in mezzo alla campagna. Abbiamo detto la partenza è stata data in quel di Zanica. Si arriverà, lo abbiamo già intravisto nelle immagini, in una località mentana, il comprensorio di Montepora. La promozione del territorio è importantissima. È davvero cosa meglio di una corsa di ciclismo può essere utile per andare a scorgere le bellezze che questa provincia, la provincia di Bergamo, riserva. Questa è una cosa condivisa davvero da tutti gli amici che supportano Gianluigi Stanga, il presidente della Unione Ciclistica Bergamasca, di tutti gli sponsor, di tutti i volontari, promuovere il territorio ma soprattutto dare una grande opportunità a questi atleti di poter mettersi in luce, di primeggiare e di fare delle buone cose. Il racconto di questa gara nelle prime fasi è ovviamente un pochino piatto, se non di raccontare l'andatura che questi ragazzi stanno facendo. Sono i ragazzi della Zalf Euromobile di Serie Fior che schierano Bruttomesso, Depretto, Faresin, Moro, Portello, Raccani e Verza e li vediamo davvero impegnati in una selezione importante. Oggi si gioca praticamente in casa della Colpac, la squadra bergamasca di riferimento, se così si può dire, del ciclismo di queste categorie, gli Elite e Under 23, una Colpac che schiera Cali, Gomez, O'Connor, Persico, Petrucci, Quaranta e Raviele. Tra l'altro da Radio Corsa capiamo che proprio Persico è il vincitore dei traguardi volanti e quindi buon per lui, il portacolori del team Colpac Ballan, Davide Persico vince questa speciale classifica. Ormai il gruppo è entrato in piena Valcavallina, abbiamo visto prima il Lago Dendine, un lago famoso in tutta Europa perché è ghiaccia d'inverno. Questo inquadrato con il numero 159 invece è Giacomo Garavaia, notate come questo atleta della Work Service provi a forzare, sulla testa della corsa si va a creare un gruppetto di atleti. Si tratta di Cali, di Gomez, di Secac, di Tombini, Calzoni, Granados, Bagatin, Maximovic, Parashak, Sidor, Damore, Palma, Bruttomesso, Palomba, Tornaboni. I ragazzi provano a guadagnare un mezzo minuto sul gruppo però davvero molto difficile mantenere la testa della corsa. Ora è un momento dove assistiamo a delle scaramucce lì sulla testa della corsa ma come potete vedere tutto sommato l'altimetria dice pianura. È davvero difficile riuscire a portare fuori una fuga in questa fase. Certo è che la combattività di questi ragazzi è da elogiare. Qui vediamo un terzetto di atleti, vediamo che si rialzano, attendono l'arrivo di un atleta a colpa che è poi di un atleta della Zalf. Però insomma l'azione di questi ragazzi non è convinta, non c'è l'accordo, non si riesce a trovare un accordo con il numero uno. Vedete anche Francesco Calì che dice ma andatemi una mano a tirare lui il portacolori della Colpac. Insomma davvero difficile per questi ragazzi riuscire ad andare in fuga. Difficile anche perché l'andatura è sostenuta, più di 40 km orari di media ovviamente e allora davvero è molto complicato portare via un'azione. Nel frattempo vediamo in testa al gruppo il numero 28 Lorenzo Ferroni della Gallina Ecotec Lucchini che schiera Walter Calzoni, Domenico Cirlincione, poi Granados Carvajal, Riccardo Tomasoni, Zarenko. È una formazione che si mette lì davanti e prova a dettare il ritmo in questa fase di gara. Ora la strada comincia un po' a salire. Siamo nei pressi dell'abitato di Sovere, si sta salendo diciamo direzione clusone se così si può dire e qui la salita comincia ad esserci. Magari dalla inquadratura che state vedendo in questo istante non si intuisce perfettamente che la strada salita però vedete qui tornante verso destra la strada comincia a cambiare pendenza. Quindi ci attendiamo da un momento all'altro qualche azione degna di nota ed eccolo qua. Eccolo qua un'azione di un atleta che prova la sortita solitaria. Si tratta del dorsale di gara numero 130 Andrea Colnaghi della Onec Team. Al suo inseguimento provano a lanciarsi altri due atleti e ora cerchiamo di identificare, anzi no è un tandem all'attacco. È davvero bella quest'azione di questi due ragazzi che provano a vantaggiarsi. Ci dicono che hanno già guadagnato una quindicina di secondi sul gruppo. Insieme a Colnaghi si porta anche il numero 101 Simone Lucca dell'Assissio Team, l'inconfondibile maglia arancio di questa squadra veneta. Assissio Team quindi va all'attacco con Simone Lucca. Insieme a lui anche Andrea Colnaghi. quindi Onec Team e Sissio Team che provano ad anticipare. Nel frattempo però attenzione attenzione perché ok perfetto perfetto. Allora vediamo che questi due corridori fanno l'andatura e stanno davvero guadagnando un margine di circa 15 secondi su un primo inseguitore. Ci dicono da Radio Corsa il numero 7 Raviele. Però vediamo che alle spalle di questi atleti sta succedendo un po' di tutto. Vediamo che c'è un rimescolamento delle carte. Ora cercheremo di andare a individuare quali sono i corridori che si stanno facendo vedere in questa fase. Ci dicono che sono particolarmente attivi i vari Galimberti, i Raccani, i due Colombo, Marco e Raul Colombo, Granados, Bagatin, Canepa. Però adesso cercheremo con il conforto delle immagini di andare a capire di chi si tratta. È davvero azione interessante. È un po' che è tutta in fase di evoluzione. Per esempio abbiamo visto Granados con il numero 29. Questi dovrebbero essere gli atleti che ho appena citato che provano a lanciarsi all'inseguimento di Colnaghi e Lucca. Ora la strada come potete vedere comincia davvero a salire. Per affrontare questa ascesa bisogna avere davvero anche potenza, bisogna spingere perché le pendenze non sono impossibili ma la strada tende a tirare, a salire. Allora ecco che guardate che bella la postura intanto dell'atleta che è in testa e portacolori della Zalfa, Simone Raccani che prova a fare l'andatura a caccia del duo di testa col Naghi e Luca. I due ragazzi continuano imperterriti nella propria azione ma qualcosa sta cambiando perché vediamo che si è formato... attenzione andiamo a analizzare bene quello che sta accadendo adesso perché potrebbe esserci un nuovo scenario di gara. Andiamo con la nostra moto ad avvicinarci e sì perché qui vediamo il numero 83 Marco Colombo della Arias Cycling che si è come rilanciato dalle retrovie e prova l'azione solitaria. Ha agganciato la davanti Simone e Luca e adesso prova a pedalare in completa solitudine. Bella l'azione di questo corridore di Marco Colombo l'atleta della Arias Cycling che prova a impostare un buon passo. Alle sue spalle ovviamente non c'è non c'è un momento di tregua. Molto importante rifornirsi di acqua in questa... di reidratarsi in questa... in questa gara. il caldo è altissimo. Vediamo intanto che è ancora una volta uomini della Zaf, in questo caso è Davide Depretto, provano a mettersi in evidenza. Insieme a lui c'è anche un altro atleta che mi pare di intuire sia proprio quel Gerardo Sessa del Velo Racing Palazzago. Allora Depretto e Sessa si lanciano all'inseguimento di Marco Colombo. E allora adesso questa azione potrebbe essere davvero interessante. I due mi sembra che stanno andando con un sostanziale e buonissimo accordo e cercano di andare a fare la differenza. Davvero complimenti a questi due corridori perché non era una cosa così... non è una cosa così scontata andare a caccia di questo atleta Marco Colombo. Allora la situazione è Marco Colombo in testa solitario. Alle sue spalle inseguono Gerardo Sessa e Davide Depretto. Dietro il gruppo continua a sgranarsi ed è ormai composto da una ventina di corridori. Bella è l'inquadratura se la merita questo primo piano, questo corridore che però 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 attenzione è stato raggiunto e allora abbiamo tre uomini al comando. Nuova situazione di gara, tre uomini al comando. Si tratta di Colombo, Sessa e Depretto. Un terzetto che prova ad anticipare l'ascesa al Monte Pora. Quella è più dura perché la salita finale è di quasi 7 per cento di media. Quindi è una salita di quelle che non sai bene come interpretare perché non sono... devi sapere... ci sono delle punte con pendenze importanti e punte in cui devi pedalare. Questi atleti decidono di anticipare. Ora c'è da capire se questa azione è una sorta di trampolino di lancio per dei compagni di squadra o effettivamente questi ragazzi provano ad andare all'arrivo. Bravi 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 davvero. Colombo, Sessa e Depretto che vogliono impostare il ritmo. Guardate la differenza... a me piace sempre in queste situazioni guardare la differenza di pedalata di questi atleti. Ma attenzione perché mi sembra che... stavo notando proprio che Marco Colombo pedale in maniera un pochino più agile rispetto agli altri due. Il problema è che la sensazione con quel colpo di pedali è che forse Marco Colombo stia facendo un pochino fatica e si e si e si si purtroppo per Marco che è stato diciamo il promotore di questa azione e le gambe sono mancate. Le gambe sono mancate e allora sulla testa della corsa due uomini. Gerardo Sessa della Veloresi in Palazzago e Davide Depretto. Veloresi in Palazzago, altra squadra di grande, grandissima tradizione qui in provincia di Bergamo che oggi si schierava via con Immanuel Daniello, Pierfilippo, Gabrielli, Matteo Ligato, Imad Secac, Manuel Tebaldi e poi questo Gerardo Sessa che prova andare a caccia di un doppio traguardo perché se la situazione dovrebbe essere così invariata pensate che questo corridore potrebbe vincere sia il titolo provinciale bergamasco che quello regionale lombardo della categoria elite. Allora buona questa idea, buona l'idea di provare ad andarsene via. Nel frattempo eccolo qua siamo nel comprensorio sciistico di Montepora, una località incastonata tra le montagne, una località bellissima. Il gruppo è letteralmente deflagrato. Guardate dietro come tutti si è allungati e ci dicono che c'è una nuova situazione anche sulla testa della corsa. Ora proviamo a riportarci lì davanti con i nostri motociclisti. Ci dicono che in particolare evidenza si sono messi Zarenko, Calzoni, Villa, De Carlo, Luca, Raccani, i due fratelli Galimberti e poi Lightfood, Verza, Petrucci, Sasso, Garzi e anche l'atleta danese Enneberg. Questa è la composizione del gruppo che vediamo fortemente sfilato. Risaliamo la moto e cerchiamo di capire chi però conduce i giochi. Allora là davanti vediamo ancora Gerardo Sessa. Sì è sempre lui che bella l'azione dell'uomo della Palazzago però insieme a lui si è portato un atleta della Work Service Group. C'è un atleta della Work Service Group che tentiamo di andare a identificare. In questo momento sta davvero impostando un ritmo molto forte. Mi sembra che arranchi un attimino Sessa. Faccia un po' fatica. Guardate non sta neanche scattando ma eh sì è attenzione perché ci dicono che l'uomo davanti è proprio lui. Riccardo Luca. Riccardo Luca della Work Service Group che senza neanche alzarsi sui pedali con una progressione imperiosa sta provando ad andarsene via in completa solitudine. Allora mancano pochi chilometri al traguardo e è un uomo solo al comando nella più classica delle tradizioni ciclistiche. Riccardo Luca prova ad andarsene via a involarsi con questa azione poderosa. Guardate che la cadenza di pedalata. Non si scompone questo atleta. Ondeggia leggermente con le spalle. Fa davvero da davvero fondo a tutte le sue forze con uno stile tutto suo inconfondibile ma anche molto ma molto efficace. È riuscito a fare il vuoto alle proprie stalle alle proprie spalle. Allora Riccardo Luca eccolo qua. Guardate il dettaglio della sua pedalata. Massimo sforzo si volta per controllare. Mancano davvero pochissimi. Mancano poco all'incirca due chilometri. Ormai siamo vicini all'arrivo. Il comprensorio di Montepora una delle più belle località sciistiche di tutta la Lombardia. Alle sue spalle non c'è nessuno. È davvero un'azione fantastica quella di Riccardo Luca che prova a emulare quello che ha fatto lo scorso anno. L'atleta junior che vinse in solitaria su questo traguardo su Montepora, quel Finlay Pickering che lo scorso anno vinse da solo. Anche Riccardo Luca vince in solitaria. Allora questa corsa come diceva giustamente Gianluigi Schetanga che è uno che di ciclismo se ne intende. Sì questa corsa la si vince con un'azione solitaria con un gruppo ristretto. Non ci poteva essere un epilogo diverso. Allora Riccardo Luca davvero continua nella sua azione. Guadagna addirittura tantissimo tantissimo più di mezzo minuto sui suoi inseguitori. Il gruppo ormai ha desistito. Ha provato a farsi vedere De Carlo. Ha provato a farsi vedere altri corridori. Ha provato a farsi vedere i due fratelli Gallimberti ma ormai siamo in dirittura d'arrivo. Si volta Riccardo Luca. La fatica è finita. Eccolo qua. C'è un sorriso. Si alza sui pedali. Solleva le braccia e vince. Gran bella vittoria per Riccardo Luca. Riccardo Luca e alle sue spalle sbuca un fantastico Gerardo Sessa che arriva a 26 secondi e conquista quindi le due maglie di campione provinciale bergamasco e regionale lombardo. In terza posizione Giovanni De Carlo che si aggiudica così il titolo regionale degli under 23. Quarto Walter Calzoni. Quinto Mattia Petrucci. Sesto Davide De Pretto. Settimo Giacomo Villa. Ottavo Lorenzo Galimberti. Nono Francesco Galimberti. Questo è un gruppo che è arrivato a un minuto e quello inquadrato invece è Simone Raccani che chiude la top ten a un minuto e mezzo. E allora il podio dice Riccardo Luca, Walk Service, Gerardo Sessa, Velo Racing, Palazzago, Giovanni De Carlo, Carnovali, Rime. Una azione davvero bella, importante quella portata da Luca sulla scesa al Monte Pora. Un degno vincitore della nuova classica del ciclismo italiano, la Zanica Monte Pora. Guardate questo podio. Questo che vediamo inquadrato era Giovanni De Carlo della Carnovali Rime. Questo invece è Gerardo Sessa del Velo Racing, Palazzago, al quale viene consegnato i fiori per la seconda posizione. E allora vince il trofeo Radici Group proprio lui, Riccardo Luca. La consacrazione di un atleta alla quale speriamo che questa gara auguriamo porti fortuna. Al secondo e al terzo sono stati consegnati la Coppa Tab Italia e il trofeo Automa. Bravi, bravi, bravi. Davvero un grande podio. C'è anche Norma Gimondi. Accidenti, grande sorpresa qui sul palco di premiazione finale con un ricordo speciale in onore di Felice Gimondi. Davvero un momento molto 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 bello. Un miglior podio non poteva esserci anche nel ricordo di un campione indimenticato qui a Bergamo ma direi anche in tutta Italia se non nel mondo. Questo lo scenario del comprensorio di Monte Pora. Questo invece è Riccardo Luca. Telefona ai suoi amici per dire appunto oggi ho vinto. Un Riccardo Luca che ascoltiamo. Ecco in finale salire verso l'inizio salita in meno 6-7. Il gruppo si è un po' frazionato soprattutto davanti si sono avvantaggiati due coppie. Dietro la selezione è stata da in fondo al gruppo. Qui a salire l'Adelio aveva preso in mano la situazione e in finale invece ce la siamo giocata io e Sessa. Finora è andata molto bene. Adesso scendevo dal periodo in montagna che avevo un po' staccato per dividere la seconda parte di stagione. Non sapevo infatti come sarei sceso, la mia condizione però insomma è andata bene, il ritmo è rimasto quindi speriamo una seconda parte altrettanto positiva. Sicuramente quest'anno l'obiettivo unico è trovare un posto nei professionisti e basta. Davvero un'azione formidabile quella di Riccardo Luca. Questo il podio con Gerardo Sessa e Giovanni De Carlo. Ricordiamo ancora i dieci corridori che sono arrivati appunto nelle prime dieci posizioni. Riccardo Luca, Gerardo Sessa, Giovanni De Carlo, Walter Calzoni, Mattia Petrucci, Davide De Pretto, Giacomo Villa, Lorenzo Gallimberti, Francesco Gallimberti e Simone Raccani. Questi i ricchi premi consegnati ai primi dieci classificati che vediamo inquadrati ognuno di loro merita un abbraccio, una stretta di mano, un ricordo. Davvero hanno fatto tanta fatica e entrare nei primi dieci di una corsa come questa è qualcosa di molto importante. questo invece è Davide Persico che ha vinto la classifica dei traguardi volanti, premiato anche direttore sportivo della Work Service. Davvero questa è stata una giornata memorabile, una giornata importante. Rivediamo l'arrivo di questo atleta. Sono stati anche assegnati i titoli regionali e provinciali. Abbiamo detto Sessa che ha vinto tutti e due i titoli della categoria Elite sia provinciale bergamasco che regionale lombardo. Mattia Petrucci ha vinto invece il titolo provinciale bergamasco tra gli under 23. Giovanni De Carlo ha vinto il titolo lombardo tra gli under 23. A premiarli Stefano Pedrinazzi, presidente FC della regione Lombardia, Aldo Epis in rappresentanza della FC di Bergamo e anche Claudio Moloni, presidente del comitato provinciale di Bergamo. E con l'ultima inquadratura a questo Riccardo Lucca, un saluto da Valerio e la è da tutta BCTV.